Allora, buongiorno, benvenuti a tutti. Questa è una conferenza stampa molto importante perché riguarda la proiezione di questa sera, quindi nel programma ufficiale diciamo è una proiezione notevole, diciamo un po' anche la chiusura del festival e inoltre segna anche quest'anno il rapporto tra il Torino Film Festival e Rai Fiction. Che è un rapporto che si è sviluppato negli anni dando sempre ottimi risultati del quale siamo molto orgogliosi. In più questo è un film che è stato girato a Torino da un regista torinese, mio amico Roberto Faenza e quindi sono particolarmente contento di questo fatto. Ecco, quindi volevi presentarvi le persone che sono presenti al tavolo che sono, appunto Roberto Faenza l'abbiamo già detto, naturalmente Laura Morante che è l'attrice, ciao Laura. Rosa Diletta Rossi, anche lei, c'è per Rai Fiction il capo struttura Luigi Marignello. C'è Elda Ferri per Jan Vigo, produzione. C'è Gian Piero Leo per la fondazione Cassa di Risparmi di Torino che consegnerà questa sera un premio a Laura Morante e che è un grande amico del Torino Film Festival. C'è Paolo Manera che è il direttore della Film Commission del Piemonte. E Giorgio Marchese. E ultimo, ma... Va bene. Ho indicazioni contraddittorie ogni cinque minuti, quindi cercherò di fare il possibile per tenere la conferenza stampa al meglio, ma sarà sicuramente così, visto che siamo tutti amici. Allora, ho saltato Giorgio Marchese, scusami Giorgio. Questo è il frutto della confusione, scusami veramente. Va bene, allora, io credo che appunto possiamo incominciare proprio da quello che ho detto, cioè dalla collaborazione con Rai Fiction. Questo è un regalo, infatti ringrazio Maria Pia Mirati, ci conosciamo da anni per aver dato da subito la sua disponibilità. E chiederei appunto a Luigi Mariniello di dire qualcosa. Grazie, buongiorno a tutti. Siamo molto felici di essere qui con questo film, grazie, grazie per averci ospitato. In questa avventura che è cominciata qualche tempo fa, quando abbiamo deciso di raccontare la storia di Alda Merini, cosa con cui nessuno si era misurato fino ad oggi. Perché? Perché è una donna che è forse la poetessa italiana più conosciuta a livello internazionale. E la cosa che ci ha colpito, avvicinandosi alla sua vita, alla sua storia, è che ha intercettato un po' tutti. Cioè è una poetessa che è conosciuta da tutti, da chi è solito frequentare ambienti letterari, ma anche da chi è meno avvezzo alla poesia, alla letteratura. Quindi quando Jean Bigot ci ha proposto di cominciare questa avventura, di raccontare la sua storia, naturalmente abbiamo raccolto la sfida con molto piacere. Questo film, che vede tre grandi attrici interpretare il ruolo di Alda Merini, che sono Laura Morante, Rosa Direttarossi e Sofia Delia, nelle varie fasce d'età, e la regia di Roberto Faenza, che nella sua filmografia ha più volte affrontato e toccato il tema della fragilità e della forza femminile, rientra in un progetto di ray fiction che è quello di raccontare storie di donne, storie di eroine che hanno brillato e hanno eccelso nei loro ambiti di appartenenza. E così per la poesia e per la letteratura ci sembrava bello rendere omaggio ad una figura come quella della Merini, che appunto è stata un'eroina del nostro novecento letterario. e devo ringraziare veramente tutti le attrici che si sono avvicinate a questo ruolo con una grande generosità, con una grande sensibilità, perché non era facile portare sullo schermo un personaggio come quello della Merini, di cui appunto conosciamo tutti le vicende personali e letterarie. una donna che è stata anche libera di vivere la propria vita e che non ha mai accettato di soccombere a schemi, regole, una donna che ha vissuto la sua vita con ribellione e libertà e forse proprio per questo ne ha saputo cogliere l'essenza della sua vita. Io ringrazio Luigi Mariniello anche per la concisione e saluto anche Sofia Delia che è qui in prima fila, che è un altro volto di Alda Merini. Continuando in questa carrellata più sintetica possibile, darei la parola alle componenti torinesi alla Fin Commission Torino-Piemonte, rappresentata come ho detto dal suo direttore Paolo Maniera. Grazie, quando ci è stato parlato, durante le giornate Industri, durante il Torino Film Festival avevamo parlato di questo progetto e della possibilità di svilupparlo qua. Mi fa piacere ricordare che Roberto Faenza e il suo percorso segnano la storia della nostra Fin Commission e quando facciamo un riepilogo dell'eredità lasciata ai giorni dell'abbandono, prendermi l'anima, sono due titoli che sempre citiamo, sono sempre foto che ricorrono nei nostri materiali. Torino, con Rai Fiction, credo, vedendo il nostro database, la lista dei titoli che sono stati realizzati in questo anno, credo si possa dire veramente che c'è una galleria di persone che hanno segnato la storia d'Italia, di profilo internazionale, questo è un altro ritratto che si aggiunge e ne siamo felicissimi. Aldamerini rimanda evidentemente a Milano, siamo molto orgogliosi del fatto che comunque siamo stati coinvolti nel nostro territorio, credo che sia un combinato disposto da un lato del rapporto di stima, affetto, fiducia di Roberto Faenza con la Fin Commission e con tutto quello che collegato ad essa c'è su questo territorio e quindi dei luoghi pazzeschi che possono essere Torino, Piemonte ma anche tant'altro come ad esempio i navigli del caso, ma soprattutto una quantità di persone che lavorano su questo territorio che siamo felici e orgogliosi di qualche modo tenere insieme. Mi fa molto piacere ringraziare Gianluca Leorini che è in prima fila, che con Eagle Pictures ha creato una famiglia di professionisti del set che dal 2019-2020 regolarmente stanno lavorando a tanti progetti come in questo caso, Mara Cerede e tutte le persone che hanno lavorato su set, credo che sia stato un valore aggiunto importante, grazie a tutti quelli che hanno lavorato a questo progetto, grazie veramente e buona visione stasera, non vedo l'ora. Grazie, grazie Paolo, allora chiediamo a Gian Piero Leor, come l'ho detto rappresenta la fondazione CRT che è un partner importante per i festival, lui lo è anche personalmente, anche a lui chiedo la massima brevità, grazie Gian Piero. Grazie infinite Stefano, inutile dire, ma non lo leggo neanche niente, ho preparato tutta una serie di notazioni sulla straordinaria protagonista, la dottoressa Morante, sono acquisite e note al mondo e allora rimangono, come dire, nei nostri verbali della fondazione. Dice che non è l'ora, non sono dottoressa. Ma commentatore allora. È la cosa che conta di meno, è la cosa che conta di meno. Se qualcuno mi darà un'ora. Beh, secondo me, almeno cinque o sei, perché nella vita, con i fatti se ne sarebbe guardato almeno cinque o sei, perché contano i fatti nella vita. Infatti, 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 la fondazione CRT ha deciso, ed ho solo rapidissimamente la ragione, è di dare questo premio. Dare questo premio, diceva, le premi ne avrà tantissimi, ma è un premio che ha il significato di un impegno, per noi, sono i premi di per sé, valgono poco, o relativamente, insomma, ce ne sono di molte più importanti. Il significato è che noi vogliamo sottolineare, con questa scelta, due aspetti a cui teniamo moltissimo. Il primo, l'ammirazione per il grande talento. Ovviamente, se abbiamo scelto così bene, lo zampino di un consigliere, con cui ci consigliamo ormai da più di 40 anni, 40 anni fa, non eravamo prefetti coincidenti, per lui era l'ECOCL. Io sono sempre democristiano, lui è migliorato. E quindi, il grande Stefano, ma in merito di Stefano, che ci ha suggerito questo coinvolgimento della fondazione, che questi due significati, uno, una linea direttiva che abbiamo approvato, per cui chi lavora con i giovani e per i giovani, come lei, le giovani e i giovani li fa crescere, è un esempio da seguire. E la seconda, che di questi tempi non fa male, anche perché vedo dei bravi giornalisti in sala, che hanno appena rilevato che gli enti locali stanno tagliando i fondi per la cultura, noi abbiamo deciso di aumentarli del 15% come fondazione, destinando l'aumento in particolare a iniziative di giovani, e non per seguire la moda, ma anche perché io sono stato educato da mamma e moglie, con precedenza a prodotti che vedono come creatricio, come protagonista, giovani donne, o guidate da grandi donne. Grazie infinite e tanti complimenti. Grazie Gian Piero, grazie Gian Piero. Allora, incominciamo a parlare invece nello specifico del film con Elda Ferri, che lo ha prodotto e che ci può raccontare qualcosa di questa impresa. Intanto vorrei ringraziare immediatamente, come prima cosa, alcune persone che hanno consentito che questo film sia fatto, che hanno consentito la realizzazione di questo film. Uno è la straordinaria capacità di Gianluca Leurini, sto parlando produttivamente, che è caduta sulla Field Commission di Torino, che ha un'efficienza assolutamente straordinaria. Per una produzione, venire a lavorare a Torino è una garanzia, c'è un tipo di assistenza molto intelligente, che comincia da quando si comincia a preparare e suggeriscono una serie di cose. Il film, debbo proprio a queste persone la possibilità di realizzarlo. Poi, così, volevo anche ringraziare tutte le persone che hanno... C'è stata una generosità, a cominciare dagli attori, a finire dalle maestranze, che mi ha molto colpito, perché penso che ci sia qualcosa nella Merini che scatena questa reazione. Perché è la prima volta che in tanti anni si vede proprio l'attenzione assoluta per fare le cose al meglio. Chi trovava un documento, chi trovava una poesia, chi trovava una lettera. Ad esempio lei ha... Insomma, è stata una cosa che ha molto molto colpito e di cui siamo molto grati. Volevo dire che abbiamo qui in sala Giorgio Manganelli, l'attore Pella, Fella, Alessandro. Perché questa storia della Merini ha consentito di parlare degli intellettuali italiani del Novecento. Varebbe la pena prendergli singolarmente e raccontare la loro vita. Avremo un pezzo di storia del paese molto... non dico a posto... forse Roberto vorrà dire qualcosa, perché un'altra persona che ha assistito la produzione è stato Arnoldo Mondadori, che avendo... essendo stato molto tempo con la Morante, ha fornito... con la Merini... anche con la Roda. E anche con la Roda. C'è stato un'osmosi totale, evidente. Ha consentito di fare... di rappresentare la Merini in un modo completamente diverso da come io e molti altri l'avevano vissuta, come una donna scosciata, strana, stravagante. Invece era una donna molto elegante, molto... con un grande stile, intelligente e anche molto dolce. E secondo me questo lavoro che abbiamo fatto ha un pregio è che abbiamo sottolineato questo aspetto della Merini, che c'era bisogno... perché negli ultimi tempi quando esplosa, esplosa in una maniera che secondo me non è così corretta. Anzi è servita così a dare notorietà a molti altri personaggi. È stata molto usata secondo me la Merini. Mentre lei ha regalato tutto quello che aveva... ha regalato delle cose straordinarie. Poi insomma vedremo il film, vedremo se siamo riusciti poi con le immagini a fare questa cosa. Sicuramente sì. Grazie, grazie mille da Ferri. Allora in questo film così fortemente declinato la femminile mi piacerebbe sapere Giorgio Marchesi che impressione ne ha tratto. Ma io sono stato felicissimo di interpretare il neuropsichiatra che l'ha aiutata, il professor Gabricci che l'ha aiutata a riacquistare la libertà, prima di tutto rispetto al manicomio e soprattutto la sua vena artistica che per un periodo di tempo è stata in difficoltà. Fondalmente la cosa che mi ha colpito molto è che, appunto parlando della Merini, aveva da quello che ho capito una sensibilità rispetto alla vita che forse tutti noi abbiamo soltanto in brevi momenti e lei invece la sentiva fortemente e la esprimeva, come ben sappiamo, attraverso le parole. Per una donna così creativa era difficile conciliare la vita domestica. La quotidianità è stata quella che le ha fatto fare questo cortocircuito per cui pensare alle bollette, alla spesa, a preparare la cena alle bambine con un marito abbastanza tradizionale che faceva fatica a capirli, quindi c'è questa grandissima conflittualità e quando viene rinchiusa in un manicomio che all'epoca erano veramente dei posti di costrizione dove non c'era assolutamente il pensiero di recuperarli e riportarli nella società, ma i malati mentali erano considerati, come dire, un problema da tenere lontano dalla società per preservare i normali, tra virgolette. Quello che ha fatto è stato capire che questo neuropsichiatra, capire che il genio e la follia a volte si toccano in qualche modo, collimano, il ridare a lei la possibilità di volersi bene, considerare la persona, ascoltarla e poi fare una cosa meravigliosa, mettere a disposizione una macchina da scrivere con la quale lei è tornata a vivere, perché poi forse era nata per quello. Una curiosità, alla pubblicazione del libro Lettere per il professor G, il dottor G, lui non sapeva nulla di tutte queste lettere, poesie che aveva scritto diciamo pensando a lui, e quindi lui poi ha scritto questa prefazione per il libro, però c'è questo rapporto molto affettuoso che è continuato anche negli anni, lui ha vissuto fino a cento anni e ha sempre ricordato lei in modo straordinario, ha fatto questo lavoro con tanti, sicuramente Alda Merini aveva un talento che gli altri non avevano. Grazie mille, Rosa Diletta Rossi, ci racconti la tua Alda Merini? Buongiorno a tutti, innanzitutto volevo ringraziare Elda Ferri e Roberto Fenza per questa straordinaria opportunità, una opportunità rara, molto preziosa e anche di grande responsabilità, perché Alda Merini è un personaggio che ha dentro tante cose e quindi approcciarsi a questo ruolo è stato un cammino lento, graduale e poi ad un certo punto è come se fosse un po' esplosa. Tra l'altro il racconto che io vado a fare all'interno del film è una parte, è la parte in cui Alda viene, comincia ad avere diciamo le prime crisi e quindi poi viene costretta per ben 13 anni all'interno di un manicomio e insomma pensare a questo momento, a questi 13 anni così lunghi non è stato semplicissimo, però mi sono molto affidata alle sue parole, Alda scrive tante cose sulla sua follia, c'è un libro che è stato anche diciamo un po' un messaggero di questo racconto che è l'altra verità, il libro che lei scrive una volta uscita ed è un libro in cui le parole si confondono in cui spesso i suoi messaggi sono molto contrastanti, però dice anche una cosa è vero chi vive di pura immaginazione prima o poi impazzisce e allo stesso tempo dice, me le sono volute appuntare perché quando si parla di autori così grandi bisogna farlo con le loro parole e dice quest'altra cosa, credo nella mancanza di amore, non credo nella follia, ora ci troviamo di fronte ad un personaggio che è talmente strabordante che ovviamente all'epoca non poteva essere confinato all'interno di una struttura sociale e questo è stato il suo più grande diciamo la sua più grande colpa in un certo senso, eppure lei questo amore non lo perde mai, mai, entra in questo manicomio e nonostante gli elettroshock, le cure farmacologiche pesantissime continua a ricercare l'amore di questo marito che l'ha rinchiusa forzatamente lì, grazie all'aiuto del dottor Gabrici, trova il modo di curare attraverso le parole la sua malattia, perché effettivamente il manicomio non chiude le capacità intellettive di una persona, semplicemente restringe le sue capacità fisiche e di volontà e quindi questa è la cosa più tragica, ma la Merini resta anche all'interno, io l'ho voluta immaginare così, l'ho voluta immaginare come una donna sempre beffarda, ironica e con una follia d'amore enorme, quindi questa è la mia Alda. Grazie, grazie Rosa Diletta Rossi, e adesso la dimostrazione che la Laura non è così importante in Italia, Laura Morante, la tua Alda Merini a tua volta, tu poi insomma di letteratura insomma un pochettino ne sai per vari motivi. Allora io non so se dire purtroppo, per fortuna sono arrivata sul progetto tardi, perché c'era un'altra attrice prima di me che doveva interpretare il ruolo, poi invece sono subentrata io, perché la cosa non so che è successo, ma l'altra attrice non l'ha più fatto e quindi non avevo il tempo di prepararmi in modo stile actor studio e quindi conoscevo le sue poesie, non tutte perché ne ha scritte tante ma ne conoscevo, però non conoscevo quasi per niente lei, non l'avevo mai vista in televisione, eccetera, quindi perché lei ha avuto una notorietà tardiva ma molto forte, insomma la conoscono tutti anche, questa poi era una delle difficoltà è che tutti se la ricordano Alda Merini, non è un personaggio, ho interpretato in un film di Placido Sibilla Leramo, Sibilla Leramo non se la ricorda nessuno ma Alda Merini sì, era molto presente in televisione, quindi chiaramente non ci assomigliamo molto fisicamente, io sono toscana, parlo in un modo molto diverso da lei, eccetera, quindi bisognava trovare un'altra strada, ero un po' perplessa, poi Roberto mi ha detto no ma a me la somiglianza fisica non mi interessa che tu la imiti, non mi interessa, vai tranquilla troviamo un'altra strada e quindi a quel punto così, l'unica cosa che ho guardato ovviamente, ho guardato parecchie sue interviste, trasmissioni televisive a lei dedicate eccetera, una delle cose che mi hanno, una delle cose che mi ha colpito è che, che mi hanno colpito è che lei è molto variabile, ci sono delle interviste nelle quali è straordinariamente acuta, è straordinariamente sensibile, in modo quasi magico e interviste nelle quali sembra una donnetta, cioè molto dice delle banalità, è anche un po' reazionaria, sono rimasta molto, e poi ho capito che lei parla come se ascoltasse una voce, c'è una voce, ed è così che scrive anche, anche le poesie sono molto diverse tra di loro, ci sono poesie bellissime e poesie molto meno belle, ed è come se l'Alda Merini, quella che a noi tutti credo interessa, è quella che parla come se qualcuno le parlasse all'orecchio, sta in ascolto di una voce che noi esseri umani normali non siamo in grado di sentire, di una voce che, e quando è questa voce che le parla, lei raggiunge dei livelli altissimi, mi ha colpito molto questa cosa, queste grandi oscillazioni, questo fatto che lei fosse di volta in volta una persona molto diversa, si dice, non so, della Callas, si dice che è un genio quando canta, sublime, straordinaria, che poi fosse nella vita una donna molto poco, non particolarmente interessante, quindi sono dei fenomeni che in realtà sono abbastanza comuni, sono comuni fra i poeti, che sono un'eccezione, fra gli artisti, e quindi insomma, io non so che cosa ho fatto, non ho visto niente, anzi se potessi non andrei nemmeno stasera a vedere, tocca, però insomma speriamo bene, che devo dire, questo personaggio uno è trino. grazie, grazie, grazie mille Laura, allora dagli interventi che ci sono stati un po' avete capito quanto lavoro ha fatto Roberto Faenza, l'ho detto prima, lo ridico adesso, sono molto contento che sia qui con noi e ti lascio la parola perché tu sei diciamo il demiurgo di questo, di questo lavoro. Intanto voglio ringraziare la RAI che è qui rappresentata da Luigi Mariniello per avere dato fiducia a questo progetto perché non è stato un progetto facile portare sullo schermo la Merini, perché quando ci sono dei personaggi così attuali, anche così controversi, ci sono sempre degli aspetti difficili da gestire, noi però abbiamo avuto la fortuna di avere la collaborazione che è qui in sala, Arnoldo Mondadori, che è stato vicino a lei in quanti gli ultimi dieci anni, mi sembra qualcosa del genere, e che ci ha raccontato una Merini molto diversa da quella che la geografia tradizionale aveva sempre descritto, e cioè normalmente la Verini è stata descritta come una psicopatica, una persona mentalmente malata, mentre sicuramente ha sofferto della malattia che tutti sanno, però non era solo quello, era una donna piena di intelligenza, di verve, di ironia, di sarcasmo, che ha poi travisato, ha riportato nelle sue poesie. E quindi secondo me grazie all'aiuto di Arnoldo e anche di altri consulenti che abbiamo avuto, tra cui Borsani, Vincenza che qua fanno, che ha scritto un libro su di lei, eccetera, siamo riusciti a dare un'immagine della Merini a mio avviso inconsueta, che è quella poi anche più spettacolare, più interessante, e che credo che sia quella che interesserà di più il pubblico. Ecco, non la Merini malata, ma la Merini poeta, piena di energia, di voglia di vivere, di tutti questi suoi amici, tra cui Arnoldo, che la frequentavano, la circondavano, la riempivano di effetto. Insomma abbiamo, a mio avviso, fatto un film molto inconsueto rispetto a quello che era l'immagine tradizionale di Alda. Un bellissimo film secondo me. Bene. Non so se ci sono delle domande, rapidamente, se no ci diamo appuntamento alla proiezione che è questa sera, al massimo 1, alle 22.15, no? 22.15. Mi devo chiedere conferma perché non ho messo un insalato. No, ci sono davvero delle domande, in questo caso se non ci sono possiamo ringraziare tutti i nostri ospiti, devo dire che è stato un bel incontro. Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie.